I cambiamenti, una nuova proprietà, ma soprattutto da un video girato dalla società, un futuro roseo. Cosa si devono aspettare i tifosi e come festeggia l'Inter in questi 110? Soprattutto la storia dell'Inter è meravigliosa, io sono onorato di farne parte, ho avuto la fortuna di stare nel 90, nel 100, nel 110, per me l'Inter sapete cosa significa e credo che ci sono tanti momenti che mi vengono in mente, perché l'Inter si innamora dei momenti, perché è facile innamorarsi delle vittorie, però dei momenti che a me mi hanno fatto crescere tantissimo, prima come uomo, dopo come calciatore, e credo che la famiglia dell'Inter è talmente grande e l'Inter ha talmente una storia così bella che credo che tutti quelli che siamo qui questa sera siamo onorati. Si dice sempre così, però in questa Volo Femme ci puoi svelare quali sono stati i voti di Zanetti? Devo dire che fai fatica perché ci sono passati tantissimi campioni nella storia dell'Inter, però credo che far parte di questa grande famiglia e condividere questo momento con questi grandi campioni, ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni, solo l'Inter te lo poteva far credere. A voi!